Allora, adesso andiamo a verificare se è dritta l'asse con il piano di lavoro ho messo una riga sul coro e lo andiamo a misurare qui è 29 e qui è 36 sono 7 mm di diversità quindi bisognerebbe alzarlo così e l'abbiamo in 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 ahhh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.